Ciao a tutti, sono Franco Ballerini, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo. Sono stato professionista dall'86 al 2001 e in questo frangente ho vinto due parigi rubè. Sono commissario tecnico dal 2001 e in otto anni abbiamo vinto quattro mondiali e un'olimpiadi. Nelle mie esperienze da atleta e da tecnico ho sempre considerato il recupero una fase importante quanto un bel allenamento. E da sempre conosco R2, un prodotto specifico per il recupero degli allenamenti di lunga durata e soprattutto delle gare. Quando correvo c'erano atleti di altre squadre che erano sponsorizzate da altre ditte e comunque loro compravano questo perché appunto era un prodotto estremamente efficace. Però questo era ottimo per il recupero delle gare e degli allenamenti di lunga durata. A questo pensando soprattutto che un atleta non è solamente nel lungo allenamento ma anche in quello che potrebbe essere un allenamento breve di una o due ore ha comunque un problema di catabolismo muscolare. Questa è stata l'input che mi ha fatto pensare ad una richiesta all'equipe Enervit. Quello di ottimizzare un prodotto che possa essere utilizzato dagli atleti anche in allenamenti di breve durata. Da questa mia esigenza l'equipe Enervit ha messo a punto R1. L'integratore salino è efficace per gli allenamenti di breve durata. Di facile utilizzo si sciogliono un bicchiere d'acqua, una bevanda gradevole ed è subito efficace. Adesso con R1 ed R2 esiste una vera e propria strategia sul recupero. Quindi posso consigliare ai miei ragazzi il prodotto giusto per ogni esigenza. Nuovo Enervit R1 Sport, grazie all'esclusiva formula con ammalto d'estrine, amminoacidi ramificati e glutamina, è ideale per il recupero dei sali minerali e della freschezza muscolare. Sciolto in un bicchiere d'acqua e assunto entro mezz'ora dal termine dello sforzo, garantisce un pieno recupero da attività aerobiche intense di breve durata. Enervit R1 Sport, dopo un'ora di attività. EID R2 Sport, oltre le due ore. Il recovery system completo, da Enervit. EID R2 Sport, dopo un'ora di attività.